Un bel video su One Piece ragazzi, ci voleva, un altro video sulla lore di One Piece e su un personaggio incredibilmente importante per la lore di questo manga lunghissimo E ragazzi stiamo parlando di Im Sama, come avrete detto dal titolo oggi parliamo di tutte le volte in cui abbiamo visto Im Sama Però attenzione, piccola cosa che devo dire nell'intro, cioè sapete quante volte abbiamo visto questo personaggio? Quattro, che in realtà tre, perché due volte potremmo contarle anche insieme Cioè questo personaggio qui è stato visto pochissime volte e quando è stato visto per veramente pochissimo 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 tempo Quindi sarebbe venuto un video veramente lungo due minuti Questo video infatti ve lo dico, intanto vi andrà a narrare effettivamente quello che succede nelle poche volte in cui compare Ma cercherò di riempirlo anche con un po' di teorie, ricordatevi che comunque le teorie sono solo considerazioni personali E che appunto sono solo teorie, quindi sono solo opinioni del sottoscritto e anche della community Perché comunque io ricordo molte teorie della community e andrò a dirvi anche alcune di queste Comunque, prima di cominciare direi di ricordarvi come sempre che parte del progetto di Redlock È rivolta anche a un sito di news che si chiama appunto redhwk.it Lo trovate lì, trovate il link in descrizione, comunque facciamo un sacco di news e curiosità Sempre a tema nerd, sempre dei temi che comunque trattiamo su questo canale Se per caso ci conoscete solo per Redlock Detto questo io direi che possiamo iniziare a parlare di questo personaggio misteriosissimo Vi dico già, una cosa molto importante per One Piece è che all'interno di questo mondo enorme Esiste un governo solo Un governo che viene chiamato governo mondiale In realtà non è l'unico governo che esiste Ci sono tantissimi governi, regni, repubbliche, tutte robe così Che però comunque hanno come capo questo governo mondiale Un simbolo, ok, per eccellenza di questo governo mondiale È il suo trono vuoto Difatti a Mary Joa, che è il palazzo reale, il palazzo dei nobili di questo governo Esiste un trono che è vuoto e rimarrebbe teoricamente sempre vuoto Gli unici capi di fatto che esistono in questo governo mondiale Che sono conosciuti anche dalla popolazione del mondo di One Piece Sono i Gorosei Che sono dei personaggi molto interessanti Ultimamente ne abbiamo visto uno in particolare Che si chiama Saturn Gli altri ancora non sappiamo come si chiamano Però sono personaggi Ripeto, molto interessanti Non sappiamo se sono forti, se combattono Ma sono molto molto importanti Sono i cinque politici più importanti di tutti Il trono vuoto viene tenuto proprio a simboleggiare Che in realtà non c'è un qualcuno che comanda nel governo mondiale No, ovviamente non è così Perché Im Sama, questo personaggio che è conosciuto solo Da pochissimi nobili all'interno delle terre di Mary Joa È colui che siede sul trono vuoto Il re del mondo Ecco chi è Im Sama Ora possiamo anche partire con tutte le scene che lo riguardano La primissima scena in cui vediamo questo personaggio Ovviamente lo vediamo sempre come una sagoma nera All'interno delle segrete di Mary Joa Non sappiamo esattamente cosa stesse facendo Quindi io cercherò di dirvi semplicemente quello che succede Vediamo questa sagoma nera Che in mano ha il poster La taglia, il wanted Di Luffy, cappello di paglia Che scende per le scale in questo seminterrato Che sembra congelato Sembra molto freddo Perché vediamo un po' di ghiaccio sulla parete Apre una cella, tra virgolette, di questo seminterrato E di fronte a sé Vede un cappello di paglia gigante Punto Questa è la scena Andiamo ad analizzarla Andiamo a fare un po' di teorie Molto brevemente Allora, ve lo dico già Per quanto riguarda il ghiaccio e il freddo che si vede Non riesco proprio a trovare una motivazione Assolutamente Probabilmente quel ghiaccio serve Perché stanno conservando qualcosa Che deve essere tenuto al freddo Perché in delle segrete serve il ghiaccio Non lo so Mi fa molto strano Quella stanza però potrebbe benissimo essere una stanza di ricordi Slash memorie Non saprei Sicuramente ci possiamo concentrare di più Sul cappello di paglia gigante Allora Io vi dico una cosa Intanto potrebbe essere spoiler Per chi è anime holly Se invece siete in pari col manga Non vi preoccupate Perché questo video Non vi va a rovinare nulla Comunque Parliamo un attimo di Joy Boy Prima di tornare a questo cappello A quanto pare Joy Boy era un personaggio Non sappiamo esattamente com'era O se Joy Boy fosse il suo vero nome Fosse solo un titolo Probabilmente era solo un titolo Che viveva nell'antico regno Che è il regno che è stato sconfitto Prima della costruzione Prima dell'instaurazione Del governo mondiale Tra l'altro All'antico regno è legato tantissimo il secolo vuoto E questo secolo vuoto è tenuto nascosto da tutti Proprio da Im Sama Anzi Per dirla meglio Proprio dal governo mondiale Questo Joy Boy A quanto pare Aveva lo stesso frutto di Luffy E in qualche modo Lo riprende Cioè Zunisha Che è il suo compagno Il suo Nakama Vi ha detto letteralmente Riconosce in Luffy Joy Boy Nel momento in cui il frutto Si risveglia Nel momento in cui Luffy Si trasforma nel Gear Fifth Nella sua forma completa In Nika Quindi si Teoricamente Joy Boy Aveva quel frutto lì E tra l'altro Se noi andiamo a vedere Zunisha Che è un essere immenso Di fatto l'essere vivente Più grande di tutto One Piece Come faceva Joy Boy A essere un suo Nakama Come cavolo faceva E' veramente difficile Quindi Con Zunisha da una parte E il cappello di paia gigante Dall'altra La teoria che posso far uscire Da questo video E che probabilmente Joy Boy In passato Era proprio un gigante Chi lo sa Comunque Questa è la prima Scena E la lasciamo qui Nella seconda scena Vediamo che Im Si trova nella sua camera A quanto pare E' un giardino interno In questo giardino Vediamo che le radici Arrivano fino alle pareti Fino alle finestre Vediamo anche delle farfalle All'interno di questo giardino Qui vediamo di nuovo Im Sama Nella sua sagoma nera Che ha tagliato Dei poster E in mano ne ha un altro Ha tagliato i poster Di Barba Nera Di Luffy Cappello di paglia E della principessa Shiraoshi Mentre in mano Ha quello Della principessa Vivi Verrà poi chiamato O chiamata Non sappiamo il sesso Di questo personaggio Da una servitrice Per presenziare Alla Riunione Che ha chiamato Appunto Per i Gorosei Beh questa è una scena Se E parliamo Un pochettino Anche qui Per quanto riguarda La stanza Alcuni pensano Che i suoi poteri Siano legati Alla terra Quindi alcuni Legano tutto questo Però ci sono Troppe poche prove Andiamo a parlare Andiamo a parlare Andiamo a parlare anche qui Dell'elefante Nella stanza Del Veramente L'elemento Chiave Che sono i poster Tagliati E con dei coltelli Conficcati nella faccia Dei personaggi rappresentati Allora Abbiamo due pirati E due principesse Questa cosa qui A me ricorda tantissimo Il flashback Di Oden Per chi non se lo ricorda A un certo punto Nel flashback di Oden Si vede anche Il One Piece Si vede la ciurma di Roger Che raggiunge il One Piece Si vede anche Le loro considerazioni Mentre tornano indietro Dopo aver visitato Laugh Tale Dicono Chissà chi sarà Il Joy Boy E la principessa Che arriveranno Tra vent'anni Quindi in poche parole Quando arrivano Su Laugh Tale La ciurma di Roger Sembra sapere Che tra vent'anni Deva arrivare qualcun altro Qualcun altro Deve essere Il nuovo Joy Boy Colui che Porta la volontà Di questo personaggio Che ha vissuto Nel secolo antico Però non solo lui Ok? Non solo lui ragazzi Ma anche una principessa Probabilmente Im Sama Sa benissimo Di questa professione La conosce molto Molto bene Quindi poche parole Da una parte Deve trovare Deve spegnere Tra virgolette Ma tra poco Ne parleremo meglio Uno che potrebbe essere Il futuro Joy Boy E i candidati per Im sono Barba Nera E Luffy Molto probabilmente Adesso è Luffy E la principessa Che sempre per Im Sono la principessa Vivi O Shiraoshi Bene Questa è la seconda scena La terza scena Viene vista Praticamente subito dopo Ma la location Cambia Completamente Vediamo Gli assi di saggezza Che arrivano Davanti al trono vuoto E per la prima volta Vediamo che Im Si siede A questo famoso Trono vuoto E i Gorosei Chiedono Qual è la luce Che è da spegnere Ok? La luce che è da spegnere Qual è la luce Da cancellare Dalla storia E Im Sta per dire qualcosa Ma non si vede Verosimilmente La luce che è da spegnere Da far dimenticare È la principessa Della profezia E Verosimilmente È proprio La principessa Vivi Sappiamo infatti Che la principessa Vivi Sarà vittima Di un tentato Omicidio Durante Il Reverie Probabilmente Questa cosa È un riferimento Appunto A questa scena qua E verrà salvata Solo grazie All'aiuto Di Big News Morgans Non sappiamo ancora Perché comunque È stata salvata Detto questo Di questa scena Veramente C'è poco da dire Cioè i Gorosei Si inchinano Cosa che è veramente La pelle d'oca Quasi E sappiamo solo Di questa cosa Della principessa Per questo Vi dicevo che in realtà Le scene sono tre Perché queste ultime due Secondo me Si possono collegare E ora Andiamo a parlare Della scena Più piccante Più cicciona Diciamo così Più bella Di cui parlare A quanto pare Sabo Sembra essere L'assassino di Vivi Secondo Le news Ok News false Perché ovviamente Non è vero Anzi Non l'assassino di Vivi L'assassino di Re Cobra E sembra che abbia rapito Vivi Ma ripeto Non è così Comunque A un certo punto Sabo si trova A Lulusia Che cos'è Lulusia? Lulusia è un regno Del nuovo mondo Che si è ribellato Al governo mondiale Uno dei tanti regni Che ormai Si sta staccando Dal governo mondiale Ed è sotto il controllo Tra virgolette Dei rivoluzionari Qui Sabo Fa una chiamata Nonostante Nonostante Ragazzi Sappia Che c'era qualcuno All'ascorto Che la marina Comunque lo stava Intercettando Vuole dire Ai rivoluzionari Che le news Sono false E che lui Sta bene E' ancora vivo E che ha qualche informazione A quanto pare Ha visto qualcuno Presumibilmente Sabo infatti Ha visto qualcuno Seduto sul trono vuoto Questa è un'informazione Talmente grave Che i Gorosei Sentendo questa intercettazione Fanno chiudere i collegamenti Con tutti i marins All'ascolto E vediamo una scena Veramente Eclatante Dopo che scoprono Che Sabo Sta chiamando Da Lulusia Si vede la figura Di Im E si vede Che con un pennello Mette una X Rossa Sull'isola Di Lulusia A un certo punto Torniamo a Sabo Che si trova Nelle vicinanze E Sabo Con i suoi occhi Vede un Qualcosa Una specie di sfera Che sembra di luce In realtà non si sa Perché abbiamo solo L'adattamento manga Che non ci fa capire Molto bene Che cos'è Che cade Sull'isola di Lulusia E fa scomparire Completamente L'isola La distrugge Completamente E per giorni E giorni Ci saranno Problemi Di scosse Di terremoti Di maremoti Un casino Questo È il primo assaggio Del potere Di Im Sama È una scena Molto molto particolare Sabo comunque Si salverà Perché in realtà Non era su Lulusia Ma era su una nave Si stava dirigendo Verso Kamabaka L'isola Dei rivoluzionari Una volta che verrà spenta La chiamata Comunque I Gorosei diranno A tutti quelli Che hanno sentito Di dimenticarsi Di fatto Quello che è successo A Lulusia E anche la CP0 Vediamo poi In qualche capitolo dopo Che pensa Che vede Che cosa è successo A Lulusia Che è scomparsa E loro stessi Comunque che fanno parte Del governo mondiale Si dicono da soli Che è meglio Non fare domande A riguardo Quindi il potere Di Im È veramente Veramente Devastante Ora Moltissimi Hanno indicato questo Come il potere Di un frutto Io Questa settimana Tra l'altro No Settimana scorsa Nel mio canale principale Che è un canale Che si chiama Mera Mera Forse alcuni di voi Mi conoscono Anche per quel canale lì Ho pubblicato Un video In cui do La mia Su questa scena qui Sul potere di Im Per quanto mi riguarda Potrebbe non essere Per forza Un frutto del diavolo Ma potrebbe benissimo Essere Il suo Aki del reconquistatore Ora So che è una teoria Difficilissima Ok È veramente Sarebbe Devastante Una roba del genere Però per me Ci può stare Attenzione comunque La prima definizione Che ci viene detta Dell'Aki del reconquistatore È che a quanto pare Chi ha Tutte le caratteristiche Le abilità Di un re Sono Praticamente Richieste Detro i canoni Dell'avere L'Aki del re conquistatore Quindi in poche parole L'Aki è anche collegato All'ambizione Alla forza Di volontà E io qui Vi faccio la domanda A voi Ma il re del mondo Colui che sta Sopra tutti e tutto Ma che Aki deve avere Uno così Se noi vediamo Comunque anche Gli ultimi capitoli In cui noi abbiamo Un assaggio Dei colpi Di Aki Fatti da Shanks e fatti da Garp Cioè Ok Secondo me Si può avvicinare A una roba del genere Cioè Per esempio Il pugno di Garp E Garp Attenzione È un vice ammiraglio Non è il re del mondo Cioè Il pugno di Garp Quasi distrugge A Cinosu È una roba devastante Quindi Si per me Ci potrebbe anche stare In molti hanno visto Anche Uranus L'arma di distruzione L'arma ancestrale Ci stanno tutte le teorie E qui infatti Ragazzi Lascio la palla a voi Commentate facendomi sapere Cosa ne pensate Di poteri di Yim E cosa ne pensate Di questo personaggio In generale Allora Queste sono le uniche scene In cui effettivamente Lo vediamo E ho dato anche un po' Del mio contributo Con le varie teorie E considerazioni Come ho detto Ora ragazzi Tocca a voi Io direi di concludere Questo video Come al solito Facendovi presente Che questo canale Sostenuto anche Dal nostro store Trovate il link In descrizione Nel primo commento E per quanto riguarda One Piece Abbiamo una linea Veramente inesauribile Di poster Che vanno Veramente molto Quindi ragazzi Io vi consiglio Di dare un'occhiata Ai nostri poster Sono tanti Sono belli Se li volete Prendeteli ragazzi Fatevi un favore Perché sono veramente Veramente molto 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 belli Comunque ragazzi Grazie mille Per aver visto questo video Io sono Marra E questo è Redoc Noi ci vediamo prossimamente Con altri contenuti A tema One Piece Se vi va Su questo canale Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Mettete like E iscrivetevi E noi ripeto Ci vediamo Tra pochissimo Ciao ragazzi Fate i bravi Ciao a tutti